Pietra e il Cina, poi Monte Fusco. E oggi siamo diciamo in Puglia perché siamo in Puglia nel comune di San Marco la Catola, alle mie spalle potete intravedere il subappennino Dauno e San Marco la Catola è un centro ai confini con la campagna. San Marco la Catola è un centro dove si vive essenzialmente di agricoltura, un centro dove si respira anche aria pura con il bosco di San Cristoforo. Ma San Marco la Catola ospita sin dal 1530-1535 un convento dei frati minori Cappuccini con annesso un santuario intitolato alla Madonna di Giosafat. E questo santuario fu costruito sulle rovine di una preesistente abbazia. Ma San Marco la Catola è famosa anche per la presenza di Padre Pio. Padre Pio qui c'è stato più di una volta, c'è stato precisamente, vediamo le date per evitare di essere imprecisi, nel 1905-1906 ha dimorato in questo convento dove ha terminato gli studi ginnasiali e poi è tornato nel 1918 attorno al mese di aprile-maggio. E' famoso perché qui Padre Pio ha conosciuto Padre Benedetto Nardella che poi sarà il suo direttore spirituale fino al 1922. Ma nel corso di queste nostre puntate poi avrete voluto anche di vedere, di entrare virtualmente con noi nella camera dove Padre Pio ha vissuto. Quindi siamo un po' sui passi di Padre Pio, sui conventi, andiamo a visitare i conventi dove lui è stato, i conventi e il circondario. E riprendiamo il nostro discorso, o meglio le nostre riflessioni, le nostre provocazioni che ci portano a pensare come guarire il nostro cuore, come guarire i nostri pensieri, perché è vero che i pensieri possono aiutarci a dare un senso positivo alle cose e la scienza psicologica con tutte le sue scuole, bene o male, in un certo senso coincidono con questa asserzione. Cioè un pensiero positivo ti fa vedere anche qualcosa di negativo in maniera positiva. Cioè non ti nega la, chiedo scusa, il gioco di parole, la negatività di un evento, di un fatto, di una realtà, ma ti fa reagire in maniera positiva. Ma sappiamo noi bene che il cristiano crede soprattutto alla forza di questo Gesù che nella preghiera, nei sacramenti, che nella Chiesa continua a guarire il nostro cuore, continua a convertire i nostri pensieri. Questo non vuol dire che escludiamo del tutto l'aiuto delle scienze umane, che quando occorre ci vogliono e dobbiamo farlo, ma dobbiamo tornare al cuore di Cristo per guarire il nostro cuore, per guarire e cambiare i nostri pensieri e quindi essere felici nella felicità di Gesù. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!